Guardate com'è facile da fare questo polpettone con tonne e patate, è morbido ed è perfetto per ogni occasione. Fate cuocere le patate per 40 minuti, poi schiacciatele con uno schiacciapatate. Aggiungete del pepe, un pizzico di sale, un uovo e mescolate. Unite poi il tonno e fatelo incorporare. Unite anche dei cubetti di formaggio, io ho usato mozzarella per pizza. Mescolate ulteriormente e per ultimo unite anche del pane grattugiato. Fatelo incorporare bene ai restanti ingredienti. Dovrete ottenere un composto bello compatto. Trasferitelo poi in un foglio di carta forno e sempre aiutandovi con la carta forno date la forma del salame e stringetelo bene, dovete compattarlo. Trasferite poi in una teglia da forno, ungete il polpettone con dell'olio e spolverate con il pane grattugiato. In questo modo formerà una bella crosticina croccante. Infornate a forno statico già caldo, 180 gradi per 20 minuti. E naturalmente se lo provate, fatemi sapere.